Abbiamo finalmente risultati, erano aspettati ormai da diversi giorni. La classifica di ICD-Rate ci restituisce un'Italia con prima in classifica Milano, una grande città di Milano, seconda Bologna, terza Firenze, quarto Modena e così via. C'è stato un grande salto delle città metropolitane e questo non a caso. Lavorando all'Indice quest'anno e anche confrontandoci con i soggetti in questo momento che per noi sono degli interrogatori importanti nell'elaborare l'Indice, abbiamo dato un pochino più importanza alla dimensione economica. Questo perché? Perché siamo convinti che in questo momento l'Italia dei borghi è importante, l'Italia del vivere bene è importante, ma in questo momento è anche importante l'Italia delle città abili, delle città in grado di sostenere l'iniziativa, di sostenere una ripresa dell'economia. Avendo dato un pochino più di importanza alla dimensione economica, abbiamo registrato questo salto in avanti di alcune città metropolitane. Anche città di medie dimensioni laddove sono inserite in un contesto territoriale ricco di iniziativa, ricco di competenze, ricco di imprenditoria. Dato negativo, quello che emerge è invece questa, di nuovo anche ai siti elettrici, restituisce un'Italia divisa in due. Le città di cui sto parlando più dinamiche sono le città del centro-nord e le città invece del sud non raggiungono la metà classifica. Quindi abbiamo una distanza sempre più netta tra un paese che cerca di ricominciare facendo sistema delle diverse energie che ha e invece una parte di territorio che ha difficoltà nel creare le condizioni per un nuovo sviluppo. Dal punto di vista metodologico, la ricerca segue alla tradizione che ci ha portato fino ad oggi, cioè divisa in sei grandi dimensioni di aree tematiche, economia, mobilità, qualità della vita, ambiente, capitale sociale e capacità di governo, la cosiddetta governance. Quindi sei grandi dimensioni. All'interno di ciascuna dimensione abbiamo individuato sia indicatori standard, ad esempio la dotazione infrastrutturale dal punto di vista economico di alcune, appunto, aeroporto oppure banda larga eccetera, ma anche alcuni indicatori smart. andando a cercare anche indicatori in grado di registrare le grandi mutazioni che questo paese sta vivendo. Vi faccio solo l'esempio più sfizioso. Abbiamo introdotto quest'anno, per capire quanto è attrattiva una città, anche le citazioni su TripAdvisor, oppure per vedere come si rapporta il cittadino, i Twitter generati dalla singola pubblica amministrazione. Quindi anche indicatori che vanno a cercare di cogliere la parte più dinamica della città. Grazie. Grazie. Grazie.